Giorno, un caffè percorso, subito, voilà Ecco fatto, a posto, a lei, grazie Cosa costa? 60 centesimi Da 10 va bene? Sì, sì, va bene 10 20 30 40 50 60 È così È una maniera diversa di pagare, capiti? Di dare gli oddati, non è che tu gli oddati Sì, è simpatica Vediamo, vedete È fatto È fatto Buon Sì 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 Vabbè Giorno Senti, un altro caffè Sai, ogni ora la pausa caffè ci vuole Quando ci vuole, ci vuole Eh sì A lei Grazie Eh, quant'è il caffè? 60 centesimi Sempre da 10 Mi trovo sempre di spiccioli 60 Va bene 10 No, eh Stanno Non è che non stai No 20 30 40 E 40 Spiazzati Ora 50 A chiusura 60 Ma io cari È bello C'è Ti dà Li ho dati Cioè Non è che non li ho dati Sono Onesto, eh Onesto L'avete visto Dai Sto per farlo così bene Prego Vado'è Buongiorno Mi fa il solito caffè Subito Ah, grande Che è questa cosa qua? Tortino Tortino Mo' Servito Grazie Quindi hai intenzione di diventare abituai diciamo? Ah, mi trovo bene voglio dire Cioè Perché sta in un fisto alla macchinetta, capito? Comunque è buono con il caffè del bar E tutto un altro discorso Eh, vabbè, è chiaro Vado'è Ho fatto la mano Vabbè Quanto è? Sempre 60 centesimi Non mi trovo C'è un euro, c'è il resto? Sì A te, non è che... Devo dare 40 di resto 60 centesimi Ho dato un euro, sì 40 di resto Cioè, fa niente se li do da 10 No, non è un problema Vasquezano 10 20 20 30 30 Che meno? E 40 40 di resto E quant'è il caffè? E quant'è il caffè? 60 centesimi 60 centesimi Quanto mi hai dato? E il resto? 40 centesimi 40 centesimi Allora, fai dai cosa? 40 Diciamo 50 E 60 Fammi un altro caffè Fammi un altro caffè